Siete pronti per il video? Sì signor Capitano! Non ho sentito bene, ripetete un po'? Sì signor Capitano! E let's go! Ha letto no in macchina sì? Ah ok, ha letto no. Allora Gabri... Ti piace questa tua amica? Ma sai qual è? Io sembro una cazzata no? A me ce l'ho stata tanta volta in cui mi è stato posto per la stessa occasionale, ho sempre detto di no. Perché a me non piace proprio... C'è molti magari... Io sto molto... C'è molti dicono, vabbè, faccio una scopata dai diverti. Oh! Ma io se mi devo dire se fai una scopata faccio altro. Che mi rimane nei ricordi, no? Non è una scopata. Cioè, magari mi reggo un libro, mi vedo un videocorso... Gioco a calcio... Ma... mi sembra sfegare tempo. C'è altrimenti faccio una sega, due minuti sborro... Scusate... Eiaculo... E... e risparmio tempo. No? Vabbè, non lo so... È una mia... Non lo so. Un po' va? Dopo reactiamo bello bello. Dopo facciamo un bel react al dramma tra Fieric e Parnes, va? È stato fermato? Ma quando è stato fermato, scusami? Oggi... È una merda. È una merda. È una merda. Ormai devo andare a San Fieric. Era meglio prendere il Gantlet, ragazzi. Conciocati. Attacca, attacca. Mi sto a posto il mio telefono. Sono uguale? Digpick e via. Ragazzi... Troppo persone vogliono vedere il mio cazzo. Non... Oh yeah! Buongiorno mistero. Se sono i riassisti su telefoni... Mangiamo si esso. Ero Yoka, ne rispondi. E che cazzo volvi? Scusami Leo. Buon instante. Avete mangiato? Vi siete divertiti? Che avete fatto oggi a scuola? No. La merda ci ha fatto con l'analisi proprio Natale. Fai una grazia del follo. Tipimo al fight. C'è il drago up. Lo sto giocando malissimo. Mi sto deconcentrando un casino. Non c'ho più voglia di giocare a questo game. Non c'ho più voglia. Questo mi è sciotta. Nonostante io sia andato tutto a dire... Mi da proprio fastidio. Lo provo. Lo provo. Tisanina grazie del follo. Holy shit che fastidio. Mi da proprio fastidio di giocare a queste partite. Giuro. Ho piccato Rumble. Perché eramo... Contro malfight. Ma dovevo andare contro Dinger. C'ho dovuto avere una lane di merda contro Dinger. Perché è un champion di merda. E mo nonostante io abbia vinto la lane. Mi killa 1v1 così. Perché è un champion di merda. Wow. Oddio. Si è rotto il mic. Ehm. Ehm. beidim che... pursuit in giù ciu 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 bidi doick in giù. Beh in giù ciu 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 baby. Chi ciu 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 ciuaca. women Adesso mi sentite? Chat? 08mc. 14 team. Porco. 13 team. Chat? Ah non mi sentite? 08mc. Pezzi di merda. Pezzi di merda. Contro Sion... Fiora non è buona per niente. Eh? Sì, mamma, prepara pure! O a me... Dammi il voto. Ma eri tu, mamma? Bro, ho una domanda. Avevi appena scopato, perché mi sembrano abbastanza piccole quelle palle. Chiedo per sapere, eh. Sì, però è un pasto di merda, ma cena, capisci? Ti sembra il tuo fratello che c'era ieri? No, sono sempre io! Scopato no, ma ha segato. Eh, là ci sta, sono un po' raggrinzite, tirate giù. Dai, voto 7 su 10. Ho visto palle più belle. Se adesso sto smicca si rompe tutto, vero? Con gli altri. Non avete mai sentito? Ci provo. Ciao, ti ci provo, che Dio ci benedico, ok? Perché con gli altri non c'è mai... Perché no, è un ragazzo molto simpatico. Come si sente? Mi sentite? Chat, mi sentite o se è fottuto tutto? Chat? Si sente? Ok, si sente, si sente. Si sente. E' una cosa che ti seguo. Un tuo compagno è positivo? Ma attento, ragazzo. Gira super le montagne, Luca. Eh? Che cosa? Hai preso il co? Sei attento. Attento, eh? Oggi eri sospeso, Luca, che cazzo... Che cazzo... Cos'è sto circo? Quindi, oggi Riki mi ha scritto, guarda, abbiamo fatto sta trappola, ma si erano messi d'accordo. Ma ditelo a tutti, no? Perché come Jumpy Tech ha perso due materiali. Ma se la trappola era per te, Parins, perché tu dovrebbero dire, scusami, se è per te la trappola? Era per lui la trappola? Scusami, che senso ha creato una trappola e dirla a tutti? Oh, guarda, sì, guarda. Se tu vai avanti di tre passi, muorli. Guarda, ma perché non credo nessuna mia trappola? Eh, c'è la tutta il server, l'hai detto. Che c'è? Che c'è di casca? Che cazzo crei la trappola e lo dici a tutti? Magari non capisco qualcosa io. Trove. Guardiamo. Streaming, Vale mi chiede. Amore, ma... Amore, poi guarda, pure io ero più figo. Guarda che trip adesso, chi è? Guarda. Oggi mi sono messo davanti lo specchio. Ho fatto così, mi imbalzava tutto. Faccio porco, è schifo. Eden, grazie al follow. Homer Simpson! Allora. Ripeto, in un altro punto dove era più grande, in un altro punto era cruciale dove la gente era obbligata a cadere. E non la vedeva nemmeno. Cioè, a mettere i tempi rimolbucco non cambiava nulla. Perché, ripeto, se ci vai in Netra anche adesso, te vai lì, non vede struttamente il blocco, è nato visuale che è sotto, quindi c'è restituto comunque. Ma anche in quella trappola non si vedeva. L'autostrada, chi l'ha presa adesso? Dimmi, chi ha preso l'autostrada ultimamente? Io non lo so, io l'ho presa però. Quasi l'istrata. Io l'ho presa. E tu Bert l'hai rischiato di cadere? No, c'è il vetro in fondo. C'è il vetro rosso. E qualcuno l'ha tolto. Ric, dillo. Non ho visto il tuo pod. È stato solo l'hai fatto dopo che hai messo... Cioè, io l'ho fatto prima che tu mettesi il vetro rosso. No, no, ha torto. Tu che pensi? Quello non so dirti. Ripeto, per questo fatto, ripeto, inizialmente mi parla colpendo direttamente io, perché devo assolutamente farlo dopo, subito la morte di mollo nel caso. Ric, mi senti? Poi ripeto, non so come l'hai fatto, quando c'è stato, poi appena ho potuto, quando sono blaggato, ho messo poi in giro. Anche per fare i controlli con gli altri, perché ovviamente non li faccio perdere le cose. Sono il primo, lo sai bene, anche quando ti coprivo in privato, sono il primo che non vuole far perdere l'oggetto e le persone, perché è perito, infatti, in streaming. Sono sempre ignorato. Se fai perdere le cose, è ora di streaming a rifarsi le cose, ed è pornoioso. Vorrei sapere, rogno. Il fanculo healing della madonna di Arcade! Devo flash a primo, ho sbagliato. Devo flash a prendere piantina, non penso di essere tutti qua, ho sbagliato, è colpa mia. Colpa mia. È stata colpa mia. Varus ulti, I, Vic, Zera. Dio di sui... La parte che... è randomizzata a Morgana, da che cazzo, eh. Night of Flash. In vostro canale vi mando bacioni, e ci vediamo, non so quando. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie.